Salve, sì, siamo qui. Io di Jason. F9. Sì, il canale è mio. Il canale è suo, non può tenere. Poi abbiamo F9. E Salvatore. E questo è il suo account. Anti-Biaco. Reverse-Biaco, non so. Reverse-Biaco. Shadow-Biaco. No, l'ho posto di Biaco, non mi piace Shadow-Biaco, l'ho posto. E poi abbiamo... Ma Biaco esisti? E poi abbiamo Daniel Cipai, sì, che sta accludendo la spada. Dai, Daniel. Devevo decidere cosa mettere in arena. Facciamoci un'altra cosa. Voglio dire che Daniel vuole sfidare Luigi a una sfida di spade. Allora, io userei il prete. Io userei il paladino, vaffanculo il prete. Con il prete, va bene. Dunque devi decidere... Il canale è tuo, la pace è tua. Io sono quello pro. Tira la moneta. E se sei quello pro. Col prete sono pro. Col prete. E effettivamente è meglio usare uno che usi sempre. Ma io ti devo giocare. A non rompere. Stiamo a distanza. Perfinalo. Oh, mi prendo. Hai due punti. Un numero. Dai, un altro. E che leggine la mente? Questa era Johnny. Ma lo sai che Johnny non legge nella mente? Come Johnny non legge la mente? No, la canzone, come diceva lui, lui ha solo poteri, può poterla indietro in tempo, può... Possiamo avere una lettizia nel gioco del canzone. Non leggeva un caso nel pensiero, vedeva al massimo le mutandine. Come le mutandine? Nel pensiero vedeva le mutandine? No. Non avete capito niente, Cristina davvero. Cristina davvero, scriva i testi a casa. Grazie, oh, me l'hai scelto tu, hai scelto il paladino delle ingiustizie. Ok. Mi batterò con un'ora. Ma dite grazie a me. Ma no. Allora, iniziamo sicuramente con la fine. Fanno tutte schifre. Questa? Ma sei in arena mai nessuno a cartimare? Caccio, fanno tutte schifre. Sicuramente noi avremo meno carte del nostro avversario. Ma quando mai? Ti vuoi lasciare? Allora, ok. Se mettiamo qua, se dobbiamo lasciare. Cosa dobbiamo lasciare? No, dobbiamo lasciare con loro paghi. Va bene? La terza. Ma è fortissimo. La terza. Che sono queste carte? Questa è nuova. Questa è nuova. È forte. La vocazione è un altro di morte. Si giocherà nei mazzi guerrieri. Fanno tutto schifo. Fanno tutto cagare e mettiamo questo. La crociata? Eh, sì, mettiamo una crociata. Almeno non lo proviamo. Ma che si fa? Una di schiavigli. Ci sono una peschini, non li siamo mettati. Più tra il servitore o il tizio? Il Marlock. Dobbiamo lasciare, abbiamo detto. Ma... E avrei preso tutto. Questa? Qua la c'è di nuovo. Sono tutte buone. Eh, queste sono fortissime. Che mettiamo? Dai, vuoi venire? Chiediamo un metro. Eh no, dai. Dovevamo decidere noi. Protettore d'argento? Il Martello è forte. La tizia fa poter usare anche gli schiavetti. Per me non abbiamo peschini nemmeno. Il protettore è pure forte. Ma io, beh... Dai, mettiamo il protettore per me. Sperando che riesca a Martello, perché è Martello è buono. Martello è buono. Gursore è buono. Speriamo che... Mettiamo questa sperando che ci esce l'arma a 4-2. Certo. Ma non ci uscirà mai. Ma inizio in vigore... Mettiamo il Dragofatato. Dai, dobbiamo lasciare. È da due Gursini. Eh, però l'altro Dragofatato no. Perché? È buono il Dragofatato. Oh, dai, che è preso. Ho preso preso. Madonna. Se ce lo compiamo questo rientriamo Dio. Ma ce l'ha... Quanto lo si compiiamo? Fantastica. Lui è assoluto. Lui? Pacificatore. Pacificatore o l'Eguaglianza? Pacificatore. Senti... Pacificatore. Meglio ieri morti. È capitato il Paladino. È un giorno. Eh, lui per forza. Non ce l'abbiamo. No, dobbiamo mettere l'accolite. Perché? L'abbiamo fatta cazzo. Non abbiamo peschini ancora. Il coso è la quarta. Il coso è la quarta. Lo ieri, ti fio. Il tempo di inserire l'esitore no. Fa schifo. Se non accolgo. Il c***o non è male. Sì, perché noi abbiamo gli schievi deboli. Però l'attacco di un segretore di grande pallone è buono. Fia quel episodio. Segreto. Segreto, segreto. Per quanto riguarda l'esitore, c'è uno schifo. Eh, per forza una seconda. Ma che dici? Questo capace con l'arma? No, ci immagano 15 carte, io non so. L'ho occhio per occhio. Cazzo. Comando. Prendi. Prendi segreto. No, ma sto segreto fa schifo, dai. A me piace. Senti, prendi... Fa il comando, dai. Comando, dai. Comando, segreto. Oh. Come lo ho? Eh, finalmente. È il terzo che mettiamo. Sì, è buono. E risolviamo gli scudi divini. Tu poi vuoi fare una combo con quel connessio? Ufficiale o a guaiare? Ufficiale. Ufficiale, poi tu ti fai la combo con colato Cristiano. Sì, ma come uccidiamo i giganti? Con consagrazione. Con consagrazione non riuscì di giganti. Questa? Eh, non lo abbiamo peschini. Questa, compri lo schifo. Conoce il scudo? Eh, la melma. La melma. Questa è tra queste due. Anzi, questa sarà poi la compi ancora. Questa è forte in arena. Eh, prendi lei, forte in arena. Prendi la pia, dai. Se gli diamo scudo divino, diventa... Peschino, finalmente. Abbiamo bisogno di più peschini, per favore. Eh, la salute. No, Pantira. No, Pantira. No, Pantira, dai. Abbiamo già il mostro. Pantira, dai. No, Pantira. Lui. Pocchio braccio. Cos'altro manca? Oh, finalmente un peschino. Abbiamo solo... Abbiamo potuto... Pantiamo la bellina. Sputa fango. Però anche il fango, no? Anche il fango non è affatto male. Dici. Ah, bene il fango, dai. Così dovresti spiegare la carta. Ok, la rispondazione è andata di nuovo. No, abbiamo pochissime carte alte. Ma è buono. Sputa la fango. Ok. Andiamo, no? Va. Vuoi lasciare quella spada che mi fa paura? No. Io scrivo, non me ne frega niente di voi. Paralino. Allora, forse lo dobbiamo decidere insieme, se non va, non vale la pena. Ma non so perché fatti i video, se non me ne fai finta che dici qualcosa, forse ti guarderanno. Ma intanto alla fine siamo... Ci succediamo in questa strada. Allora, cosa teniamo? Ma questo lo teniamo. Ma dove è niente? Ma se lasciamo due, cosa ce lo teniamo? Allora, non puoi definirlo. Ma te lo teni? C'è la carta da due che non è niente. Vedi, vedi. Hai messo la tizia tu? Vedi, io l'ho messa io. Che carte è tutta? Sì, 3, 3. E non abbiamo... Ha il bereferno, non abbiamo che armi. Non abbiamo che armi. Non abbiamo armi. Tenti, il Marco quel segreto nuovo danno parecchi problemi, eh. Eh, non ho idea di cosa fanno, ma... Tieni, c'è il segreto nuovo del Marco, si chiama duplicazione. Quando il tuo mostro muore, ne hai due coppie in mano. Cioè, è devastante. È devastante. Ma che anche lui sta cercando di rinascere. Sì, attacchiamo il di ascolto divino. Tanto lui muore, con segreto. No. Cosa è che muore con segreto? Per questione di mana, io dico, riattaccare e poi io gli dà gli scudo divino. Sì. Sei sicuro? Sì. Per questione di mana, dico. E che c'entra l'almano? Per non spiegare... Per non lasciare un mana non usare. E poi chi lo spiegare? Perfetto di ascolto divino a sta mattina, va bene. Ok, evo che le... Semmai attacco devo quel tizio. Sì. Ok. Ok. Dai, che si consulta con la show. Ma poi le calci. E lui vuole lasciare. Un po' di vantaggio a casa. Sì, che ancora non siamo, non nemmeno. Quando possiamo controllare il campo, controlliamo. Anche perché comunque... Noi sappiamo giocare. Io col preto so giocare. Ok. Ora ci sta il segreto. Ora, non giochiamo a questi due. Ah, no. No, non giochiamo a lei. Mi ammazziamo a una. Non c'è a tre, non c'è. Ok. Ok. Stai andando malissimo. Stai andando tutto come previsto. Ma sta carta io non so neanche che affatto. Lui pure c'è un sacco di carte in mano. Guarda che se a mostro il turno giochiamo tipo due carte. Sì, sì. Non so dalla moneta. Eh, mi ammazziamo. Ok. Comunque è... Ottimo. Allora. Eh, questa è che non ci serve un calcio. Allora, che facciamo? Queste due? Sì. Allora. Allora. Allora, io lo schianti, glielo uccidi completamente. Sì. Glielo uccidiamo a questo tipo? Sì. Glielo uccidiamo? Sì. No, andiamo diretto. Eh no, e metti la sciarola qua che potenti. Allora, il sudo divino glielo ridò dopo, no? Sì. No, tu ci devi il sudo divino a questo. Così non ti vuole nessuno. Sì, sicuro? No, dai, 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 dai. Perché il prossimo turno è il quarto turno e ecco la vera consagrazione. A parte il fatto è che dopo peschiamo di lui perché giochiamo questa e poi giochiamo questa. Io mi so tutto quello che è il male, non peschiamo. No. E tirate, è forte. Vedi che nome c'è, che Bazz. Che Bax. Non so nemmeno. Che Bambu. Se perdiamo contro il Sottice è il coin. Eh no. Vabbè, chi è attacco, no? Ma non è il libro. Ma comunque rimane solo per 29. No, vabbè, è buonissimo. Comunque è buonissimo, peschiamo un sacco di carte. Sì. Quante sono? Possiamo 4 carte. Potrei giocare lo schiavetto però, invece di giocare il segreto. Eh no, ma qui ho pescato un meno carte. Ah, giusto. Adesso è per giocare. Pulitevi. Sì, ancora pesciamo, no, non abbiamo un percino. Oh, ma non poteva arrivarci il bambu. No, 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 no. Vabbè, vabbè. Eh, magari se la tira. Magari gioca un'altra. Una volta vicina l'arena dove ne pensi qua. E' devastante, ma cazzo. Vabbè, non male che abbiamo la... Abbiamo tre danni. Non abbiamo questa stronzetta di carta. E' niente male. Allora, possiamo poi giocare questo? Ah no, no, no. Se poi non attacca ci diamo la merda. Non mi assi bene. No, sto... Vi lascio scudine a chi? Alcuno da sì. Cazzo. Vabbè, li lo togliamo. Pensiamo anche... Ne lo possiamo togliere con questa, visto? Sì. Ok. Si è preso... L'arma si è distrutta da solo. La merda ce la teniamo. No. Allora, potremmo anche giocare a questa? No, no. Ti piace attaccare? No. Se la mette niente? E guarda che li uccidiamo lui, che così non lo piccolino. Li tiriamo due. E va bene. E poi giochiamo anche il... Vai. Giochiamo lui e poi lui. Con la carta H di rento, perché devi giocare con la pedina? Lo gioca... Lasciamo. Ok. Ma se è una scolata. Io non diciamo meglio, perché non abbiamo qualche altro. Perché non c'è. Se poi si cura, è una rotazione di coglioni. Oh, tappatappatappatà. Ah. Ah, porca merda. Vabbè, dai. No, lo li hai. Io lo metterei. Io lo metterei. Lo scuola quando lo schermo. Lo metterei. Lo scuola quando lo schermo. La pancia è strana. La pancia è strana. Così dice? Così dice. Cos'è che dice? Pancia è strana. Pancia è strana? Dice così. Ti sanno da via al mal di stomaco. Che cazzo ti manca? Ah, ecco perché fango a merda. Ti fango. Non è che... Ti hai molto bene di stomaco. Quindi c'è la merda giù. Oh, bellissimo. Non le uccidiamo più a questo. No. Si sta suicidando da solo. Allora lasciamo a morte. Si. Si. Quindi dice che il Cristo da... Bellissimo. Peschiamo pure. Si. Al filo di rodo qua. 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 Se il tuo turno si fa tutto bene abbiamo vinto. Sarà tutto male. Fatto male perdiamo. Cavolo lei rimaneva viva se non... Te l'ho detto. Ah no. Cazzo è morto pure quel tiro. Eeeh... Le ho uccisi tutti. Eh perché a lui escono carte epiche. Noi no. Noi ce l'abbiamo una epica. Una. Una si ne è giocata. L'avevo detto schiava in troncosa. Bello. Vabbè dai. Ehm... Cosa facciamo di bello riuscito a questo? Ma un bel provocazione. Non starebbe. Ci sta quel tizio. Eh vabbè ma poi... Ammazza il tizio dai. Ammazza il tizio. Ma dopo gioca carte forti. Uuuuh. Non mi è riuscito a caricare. Aspetta. Caricavi tre diretti. No. Questa per gli due. E se non ce l'ammazza per gli venti te gli ha quattro. Le carte costruttate troppo forte. Ammirate la botthania in raccovento. È la nevera. E abbiamo capito che sei forte. Ce l'ammazza per tutti. E se ne… 3, 2, 5 Ah, ci la facciamo rimanere Magari con lui ammazza lui E con lui è lui Prima le potrestiamo da sì Come glielo fai fuori a qualche? No, non ha senso, secondo me lasciamo Lasciamo sperando che poi ci prestiamo una carta E ma quante carte abbiamo che ammazza? Ma che abbiamo? L'abbiamo finita, le due carte le abbiamo usate Il martello l'abbiamo usato, lui lo usiamo adesso Ma non abbiamo altre carte per uccidere Lui è costretto però ad attaccare i servitori Sono aperto Eh, è vero Almeno lo mettono un po' più scherzo Il drama Il drama All in, lo deve fare per forza o non press All in All in ragazzi, all in in arena All out Se il video registra ancora Stai registrando, stai registrando Sto fraps di merda Secondo me ci trovano i video su youtube Per cui ho detto fraps di merda Oh ma che cazzo Basta evocare gente Si schienta tutto Dai Devi ammazzarli tutti e tre Sennò ti bruci il caffè Ha deciso di perdere tre Allora eh, ma va Te li cinturano gli altri due Ma glielo per forza Una carta che togli due dai Non ne abbiamo Ci sta, ci sta Se avevamo, se ci usciva una cazzo di arma Tu non l'hai voluta mettere la troppo di mano Occhio per occhio Se ce l'avevamo Non c'è, non c'è che ci sono Oh, che pazzia sta faccia Abbiamo preso a te per occhio No Che stai presi in mano Perché non mi piace No, che pazzia, che pazzia, che pazzia, che pazzia dicevano Eh E non abbiamo messo in me Tu non mi ascolti Cazzo, hai ragione, lascia Oh Oh, lo chiamano gli? Sì Non il mio Fantastico Deve scantarsi il mondo Ma l'ho più vero che avevamo menti in ogni caso Però non mi chiede di scontarti Poco corre Vengono uscita tra qua Avrei dovuto mettere No Ma vedi che a lui escono più epiche di noi C'è un po' il segretario che ci faceva vincere Ma sì Ha vinto così quel figlio di puttana Porco Dorava molto la nostra pentolina Volute Non ci stai trovando Ti avrei attaccato tutto Ma poi per che? Voi non toglie il tizio Ah Non puoi lasciare qualcuno di poco anche qua la via No Ok Che? Segui le regole No Ti vuoi aspettare a renderti con le pericolette? Sì, ok Ma abbiamo passato la prima partita E avrei che cazzo vuoi oh eeeh se le carte non escono c'è pure le missioni eh potevamo cambiare le missioni in merda non direte però la vado a che pari poi metti i bip e poi metti i bip non metti i chip però prima di mettermi non metterò mai il bip metti il tazzingo ogni cosmo ci esce il tazzingo gaina gaina ah mo ci esce tu stu zion di parlare in dialetto mo ci esce sto tizio qua ahahah se lo tiene qua vedi vedi no devi credere nel cuore delle carte ma qual è il tuo potere ma qual è il caso si contro il mago non ha senso però ripetiamo quattro no teniamo due quattro non la sprecherò mai la moneta non la sprecherò mai la moneta non la sprecherò mai la moneta per divanco un turno uccidere quello si ma ti tenevi la moneta no no se io non l'avrei fatto fantastico se riusciamo a combare questi pizzi se ci ritenevamo i turni alti si potrebbe combare direttamente per cui perdere se ma pescava qualche carta che hai da alcuni significati io farei sopravvivere con la merda comunque proprio contro il mago dovevamo andare anche io farei sopravvivere con la merda si e va bene facciamo sopravvivere con la merda ma che merda non c'è la capa 3 danni a caso e ci ammazza la mer ma è quello non può si che può lui può perchè fa 4 danni a caso mettendo un attenziale 10 talma si manano ma non 10 siccome ti cazzo mago riuscire a mettere ma non gli dico vedi che ora è un mazzo un potenziale mazzo la vedi ma vieni che faccio eh dai scudo di vino alla al 2-2 e schiantati si si così poi lui muore e tu non due morirebbe quello da due non importa chi dà scudo di vino ma è un peccato c'è lui qua ma chi se ne frega allora gioca su quella tizia no al senso due non facciamo la compa perché alla mamma allora non il mio no uguale no non ti schiantare no non ti schiantare a questo punto si non ti schianti con quella da due ma stiamo contro il mago dobbiamo tenere sempre la porta libera fuori c'hai praticamente ammazzata e ti schianti con quello da due l'altro cristo si ti ammazzi l'altro il 2-2 2-2 2-2 2-2 che è come vuoi hai portato lo schianto ora deve spiegare la palla di fuoco su qua potrei al suo punto ammazzata ok buono buono si fa tutto il turno la sua scena poste non facciamo sì niente ok basta il sotello per serie perché vi ha già fatto il culo esatto non puoi in arena avere tutto con le carte in mano ci sei fatto un dati di merda soprattutto col mago che se ti fai il rush mago nell'arena vinci 7-7-8 partite di fila quindi abbiamo già perso si no quindi abbiamo vinto ma Dani c'è la strada guarda che coglione ma che è la strada ma perchè i sottili hanno la strada non arriva a Manoturno sto scemo guarda c'è guarda stai a com stai a com aspetta stai non ti mandilo via non scambilo via stai a com che faccio così ma c'era anche la crociata che ti aveva un tocco di vinto che se ne fredda arrivava io avevo un attacco ma non puo fare niente abbiamo vinto 10 si non puo mica uccidere lui e lui non puo vabbè abbiamo già l'ingongelato tutte ma perchè non schiamparsi contro il drago perchè tanto il drago è coglione non più con cazzo oh vedi delle campi ah così ma metti quello che dà questo e la pantiera e la crociata ti sei una carta del tuo campo che non quanti però secondo me ma capito dopo se la pantiera riesci ad attaccare abbiamo vinto mh riesci ad attaccare lui avrà un'altra pioggia di ghiacci basta che attacca uno di loro che altro sta facendo che altro sta facendo ah no dobbiamo pescare dobbiamo credere nel cuore delle carte io non ci credo credete nel cuore delle che sta ammazzando quello che ti riesce a te se tu la fai di più non sarebbe morto non c'era lo yeti vivo eh allora il cuore delle carte è con lui ehm che facciamo? che facciamo? piccatonante schianti non è via punitevi o morite si stransi mica lo ammazzo lo attaccherai con cosa vuol dire? doveva uccidere col piccatonante per il aquello comunque la pantera' più grande sì la pantera' più grande ma il mago in momento con la tattica ha fatto la quattropa a tutti sicuro non ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha non se l'ha non ce 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 l'ha no cos'è quella carta? che cosa succede? abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto occhio per occhio e abbiamo vinto qui e basta quest'occhio per occhio se all'arena facciamo altre vittorie possiamo sbustare un'altra bustina sbustiamo comunque si si già sbustiamo comunque però sbustiamo comunque dai dobbiamo almeno fare 4 vittorie insomma la ricerca è durissima no lascia la spada lascia la spada lascia è la spada la coda è la coda mia no cazzo non dovevo dirlo e poi darò questa parte posso dirlo? saranno in teia facile perchè? e i prezzi sono scatti allora vieni qua che tu sai come canteraco io vieni vieni qua non ti sento vieni qua ho bisogno del tuo aiuto come canteraco ci chiamiamo la benedizione col cavalca lupi passiamo anche per il ciclo volente consacrazione ma cosa giochiamo in preta? consacrazione cosa tiene preta? si ma è l'arena comunque c'è consacrazione in arena è sempre consacrazione ma non c'è di niente non giochiamo niente speriamo di tenere la pescata non speriamo niente abbiamo perso usciamo la moneta per vedere si usciamo la moneta per vedere certo qualcuno è ferito? qualcuno è ferito? ma perchè lo si è? nooo è scarso quello proprio contro il preto ci doveva venire il combo di prima o mai non è una carta che costa 3 e ce lo fa fuori nooo la moneta magari ha preso la moneta magari a cristo consacrazione sicuro no si ha preso consacrazione al colmo sicuro quello che fa ci metto lui e lui? no ma metti cos'è il potere? ma se metto lui poi è il terzo tu ok ok fallo ma consacrazione è matematica e se sto parlando la moneta cavalca lupi ah ha preso cavalca lupi ma è buono ah ha preso cavalca lupi ma è buono non c'è che ha preso cavalca lupi e dai se l'ha aggiornato così ah no è verissimo no ma cambia questa terra dai grazie non c'è l'ha non c'è l'ha non c'è l'ha non c'è l'ha si vuole acutare ma non può c'è l'ha punta una carta si curerà la tascia? si cura? no curerà non sa che fare non sa che fare fantastico bellissimo allora facciamo così oh bellissimo si facciamolo si no prima no il mio usiamo la moneta e usiamo il grosso ok perché dobbiamo esagerare? io voglio vincere mettiti qui con la carta prossimo 1 potremmo giocare la pia però eh 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 eeeh il mio preto non tira giù le cartiere da quanto adattare esatto il contro il preto è devastante sta carta dobbiamo entrare subito così non lo facciamo neanche curare si sarebbe curato così si si mi devo farlo fuori come? ora lì da Cristo salute oppure lì era la doppia eh allora vediamo qualcosa di silenzia no non abbiamo niente oh possiamo fare un trollaggio al nemico? no aspetta ma contro di lui non funziona perché lì mi sa che hai ragione quindi ci siamo controllati e lo facciamo fuori? gli puoi togliere puoi fare 3, 2, 5 stianziamo tutto con questo 3, 2, 5 e lui campa no, se lo facciamo si muore no, fai 3, 2, 5, lui arriva a 5 e si, e lui campa e poi gli uccide con ok non vede tanto questa è la mia responsabile io per comunque sento Dima attaccato con il no, no, non sta campando no, perché devi usare il quacalumpi ah, cazzo, è divino l'ho detto a 3, 2, 5 mi ha fatto male all'altro facciamo stare a 3, 2, 1 non hai fatto male come cosa no, invece è male no, no, contro di lui, poi ti fai se non è la mossa migliore no, perché ci teniamo quello da 1 e un tizio da 2 no, non c'è la carta ma secondo me secondo me è buona come giocatore cioè non lo considero, non lo considero con i giocatori io sì io no, non ce l'ammazzerò mai a questo a me che non li pesca con la carta anche perché l'ammazza ancora questo perché se ce l'ammazza e questo coltore è una bella artina sono sputafango sputafango stiamo pescando come i matti aia lui non si può più curare vedi ce l'avrebbe ucciso ora se ci chiamiamo a sputafango ora si cura ora si cura muore no, ci taglierà 2 al cuore la mia nuova c'è fatto un favore ci ha fatto un favore enorme anche perché noi peschiamo oddio oddio raga che fa cioè possiamo fare il mondo scutafango e lui non ci fa niente scutafango attacca prima, attacca diretto qui diretto? si vediamo cosa c'è qua tutti ancora più inutile che abbiamo in data ma guarda che anche la no, va bene così va bene così troppo così facci, 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 facci l'importante è che quale ci può servire dopo dai no, gioca all'ospedafango troppo peccato che rimani lì contro il suo calazzo cioè alla fine c'è la mano e non muore nemmeno no ma non muore nemmeno no, ma stiamo benedicati quando abbiamo un cartetto da giocare con la moneta va bene lui ancora non si è curato non ci fa curare si, non può no no noi ancora abbiamo dato danno ancora no mi sa che sta per arrivare ah no e se ci ho preso la carta tempesta siamo nella merda posso quindi ora insieme a giocare insieme a giocare giochiamo qui da dove? gioco qua qua sarà gioco? si così poi gli attacco questo è solo per pescare è solo per pescare ma non fa guarire lui per morire spettacolo però lo uccide con il potere si, io c'ho scusa volevo vedere cosa pescavamo ma ma che direi eh no, ammazziamolo eh no ammazziamolo mi è comunque se non viene di ca o inutile per fortuna che non glielo abbiamo dato ehm no, io avrei giocato ok, va bene così che vero controlla che non rinnova eh, se c'è la siamo alla merda se non rinnova se non rinnova siamo fattuti e chi è lì? hai inizionato che chi è lì? eh, esplosione le sacre quella che c'è due a tutti si rigenerà due a tutti questo gioco il cane a bai è il cane a bai è il cane a bai è il cane a bai lui c'è rubato se vuole pescare c'è rubato lui c'è rubato lui è per chiasi si, si chiasi sta per usare la ca... no che coglione che cazzo sta facendo? ah eccola la pescata oh ma assurdo ce l'ha rubata veramente cioè noi a scherzare ce l'ha rubata cambia totalmente la parte questa è la partita ragazzi questa è la partita grazie è un coglione di me giustizio altrettanto ma veramente che illumini ci incazziamo di brutto io ucciderei quello che fa pescare potremmo pescare un fottio di carte ma veramente tante facciamolo no? ma io devo schiandere la scarlatta io questo ci fa pescare ma noi peschiamo due carte se peschiamo un sacco di carte pelli muori eh? pelli muori ma che se ne frega peschiamo un sacco di carte ma non so morire stiamo pieni di carte ma perché hanno uno scudo di vino? perché ho messo lui è venuto a far morire ma poi noi peschiamo un sacco di carte guarda che cazzo ho pescato guarda potenziamo lo scutafango prima che scudo di vino no quello ci sarebbe ehm si moriteli percato non è che facciamo un tesco di vino stiamo facendo una piea però forse poterlo potrebbe anche avere controllo mentale e ciao abbiamo perso no abbiamo il tizio no abbiamo il tizio però rimane per me una bella la vado a buttare giù ma scuderemo l'arpia? come che facciamo? glielo diamo a scudo di vino è vero, non l'abbiamo ancora giocata l'arpia e gli diamo a scudo di vino muore l'arpia muore no, diamo a scudo di vino l'arpia si, si, delizialmente non lo butterà mai giù c'è già di là che lo butterebbe peschiamo pure, no? c'è comunque colui avrebbe già perso se non scubbava la carta, rendiamoci conto di sta cosa no, però è che l'abbiamo pescata su tutto più peschiamo più no, peschiamo più morta di nuovo, si fa schifre ahia ma ci lo sto dando? ma l'unico quello può dare oh, allora, cominciamo? 7, 8, 9, 10, 12, 14 14 e basta? allora, è sacco l'arpia se invece li uccidi a prendizzo gli diamo a scudo di vino a tutti i schianti ma capita potremmo uccidermi tutti tanto diretto il coccodrillo non lo ucciderà dai, tu lo ucciderà trappolo lì, perché è scudo di vino non mi sarei fatto a farlo per quanto non è punitevi o muovi io non lo scudo il mio il mio il mio prima di farti tutti i dati eh no, io perché non ha la spia ora, se ci ruba il 7 e 2 come facciamo? se ci ruba il 7 e 2 come facciamo? due mini mostri qua non so, però i mini mostri non c'è l'arco non c'è l'arco non c'è l'arco se mangiava aveva un culo assurio non si apprende l'amico hai perso che fai cosa vuole se sta sperando una carta miracolosa che non arriverà mai ma la pescata adesso si si ma veramente stai facendo si come veramente stai facendo abbiamo vinto no non possiamo giocare queste due 8 9 cioè rimane con uno e dopo l'ho uccidito il piccato nazio non sicuro eh si sai non sicuro ah no io ho qualcos'altro da giocare per me questo lo abbiamo lo abbiamo lo abbiamo vinto ahahah ma l'è strada no da ma no ma ti sei ma che Alex ma che Alex ma che se la mette a me un'intosta cazzo si lo so si lo so non sei mai curato il tizio in tutta la partita è vero cazzo mi si accendete sei zio bello il chiumo il cosiddetto chiumo il 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 chiumo no ci vanno uno di youtube per questo ah bene il tuo stronzo cogliore che si mette a tutti quanti che devono parlare il chiumo bello che si mette a tutti bello che non muore più mica l'abbiamo perso che cosa è successo oddio ho messo il tizio enorme e non abbiamo carte con cui ucciderlo no se avessi mai avuto quella carta si occhio per occhio occhio per occhio occhio per occhio occhio per occhio è dio ahahah questo non mi ascolti eh vabbè ma che ci vorrà buttarlo giù ehm chi ti sei buttato giù dai non ce la fai in questo tipo si ce la faccio in questo tipo se faria vabbè abbiamo vinto oh dai ha giocato nuovo minaccialo minaccialo qua nooo ma che fai era da minacciare ti avvio doveva fare salvo però si stava resistendo sto volendo terza partita vai terza 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 su 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 Mettete la seconda per subire il menù Ma questa è la prima che vincevamo La seconda Quindi è la quarta partita questa Oh, un attimo l'abbiamo persa Si Quindi questa è la quarta partita Si, già la portavo qui Stavano due vittorie, zio Ehm, dai Adesso c'è la battaglia il zio, metterà la scala in mano Mi vuole suicidare Mi vuole suicidare Mi voglio Piuttosto di ghiacciato Ma prima sta carta ci ha fatto vincere Ebbene Però perché se l'abbiamo data a Dio Cristo E ora siamo contro il paladino Però Toglierà bene il piede Si, ma non è brutto, la odio quella cosa Perché non te lo tieni quello con carico No, è perché siamo contro il paladino Cioè, ce lo fa fuori non niente Che fa? No, togli Speriamo un po' cosa domanda Ecco, vedi? Andrà la carta due e tre Eppure è una piratessa figlia Lo gioco Come lo tengo in mano Ehm, cosa ti vuoi schiantare contro la piedina? Lo gioco o me lo tengo in mano? Hm? Daniel Lo gioco o me lo tengo in mano per le situazioni difficili? Ma giocare La piedina La piadina La piadina si schianterà Ah si, sicuramente Usa moneta Piadina Bellissimo Bellissimo, le ammazziamo a nuova Fantastico E' bellissimo La X segna il tesoro La X segna il tesoro Se va veramente così Non importa, basta attaccare con noi E' così che c'è un carico E' non ce l'ho un carico Avete sicuro? Perchè si è sicuro? Perchè si è sicuro? In realtà Vabbè si piace quanto perché Non attacca Perchè sa che è quel segreto Esatto Molto, molto intelligente Ehm Mi vuole attaccare con lei quindi Io farei il scudo divino a lui e schianti lì Scudo divino a lei E magari li chiamo anche qua se si riesce a schianti Massimo Io Non capisco che ha connesso a lei prima Per l'altro 4 attività Sarebbe stato molto male Perchè 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 Quello che ha scudo divino che non muore Se non muore così 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 dice Fa giocare Quindi Mickey Mouse Sa giocare Si Si chiama Mickey Mouse No Si chiama S Mouse Ma io non so leggere Resta giù Se c'è quel tizio che fa fare fino a tutti quanti si potenzia la pedina Bellissimo Ottimo La gioca no Si si No E non abbiamo notizia a schiantare Dopo la Ma dopo morirà Ma capiscono con quella cosa Dopo la gioca E tu posso schiantare Io la mamma non la giochi lì Nemmeno io Assolutamente no Ma la mamma non la giochi lì Vabbè te Ti avrei giocato la tizia Vabbè te Ti avrei schiantato uno di dopo Sarebbero morti quelli Si Ma non la schianta lì C'è questo Però in realtà giocare la tizia non la piadina Ma no ce la poteva ammazzare Questa Questa va giocata Che tu devi pescare nel turno in cui la giochi Se no muori subito Quando muore questa dice morta di nuovo C'è perché muore sempre C'è lo sa già lei che deve morire Quanto ha garanzino Vedi mo peschiamo 30 miliardi di carte Ma noi dobbiamo uccidere quel tizio Inoltre che peschiamo 30 miliardi di carte Ah Noi rimaniamo bloccati Aspetta Quello c'ha 7 Giocati se ne ti va pescati Ma come fai Peschiamo 4 carte così Si Ma non glielo uccide qua Però peschiamo 4 carte Metti che c'è quella carta prima Metti che c'è quella carta prima Metti che c'è quella carta prima Guarda il paladino Più a giocare il counter lupi Questa ci fa pescare comunque una carta 3, 2, 5, 2, 7 Ma comunque anche con lì non ce la facciamo Si 3, 2, 5, 2, 7 E poi giochiamo Vediamo che esce Se no la piadina Va bene dai Perché la piadina? Si vuole il compare Una piadina Perchè ti ho mai detto col fine Ma è alla porta Vedi? Questa è una mia responsabile Non mi piace nel piamino Alla battaglia Alla battaglia Alla battaglia Noi siamo messi malissimo di carte Però anche lui deve giocare Al mio fianco Rondo il fenne Cazzo Vuoi qualche forte fortissima lì no? Che facciamo? Peschiamo due carte E poi rimane di Viva solo lei contro di lui Abbiamo Peschiamo sempre due carte Se no posso evocare lui e ammazzarli tutti Che facciamo? Oh! Che facciamo? o evo con lui e ammai li ammazzo tutti oppure evo con lei e pesco due carte ammazzando solo lui ok, pesca sono sicuro? si, sono sicuro sono sicuro che giocherà anche un'altra piadina e giocherà anche un'altra piadina ah, possiamo anche vedere che cazzo la schia ma lei gli impesti scuso di vino? no, magari speriamo che non ha una carta rapide due non avrà mai il martello ah, ma solo lì non ce l'abbiamo ok, ma solo lì non ce l'abbiamo quell'arma ma comunque gli rimanifico quel figlio di puttana non è vero ne abbiamo tre danni si, ma comunque poi gli rimanifico la cosa c'è quel tizio che ti puoi schiantare e non lo perdo che famo? melmo di suggerarlo aspetta non ce la facciamo giocare due adesso non vogliamo giocare due non vogliamo giocare due non vogliamo giocare due non vogliamo giocare due grazie si ma vuoi vedere che c'ha qua? o ci sta trollando oppure c'è un'altra arma o a quel la brandicella roccavento roccavento che faccia nel programma di roccavento che facciamo un po' queste due roccavento è fortissimo si, in arena si ma anche nel pa... si io una volta mi piacciono il crash e appena mettevo roccavento la parabina assoluta ma perchè lui ha le cartelli che figliano il no? oh io ci si dà occhio per occhio che è una rotta bellissima si, ma due volte ma che figlissima che fa... perchè lo faccio? perchè lo faccio? perchè lo faccio se ti si abbraccia così vuole che ci sentiamo vabbè ma noi lo faremo ah ok lo faremo lo faremo lo faremo abbiamo una bella provocazione il commando che ci assegnava così lo mozzo vabbè si non facciamoli che scavo che aveva finito la carta abbiamo inizio la carta abbiamo inizio la carta abbiamo inizio la partita metto lei e io metto... metti lei metti lei tanto non attaccherà mai speriamo veramente che non ha staccato nel deck perchè sennò se la teniamo prima vado quello divino dai cazzo un bel 5-5 non fa mica... schifo possiamo me si va ignorando possiamo ignorarle possiamo ucciderle oh qui c'è lì ha qua si finito le carte ricordiamoci lì ha chiamato le carte abbiamo inizio ok uccidiamo due comunque si hey da un minuto sono partia partia? si si ma sta troppo guarda è niente nuda eh nooo ma la pescata adesso ce l'aveva è incredibile ma è incredibile ma è incredibile ho tre danni anche che scena uno pescata si ma le braccia le braccia le braccia le braccia le braccia le braccia ma è una la... stai giocando tutto quanto gli era rimasto uno? quello è occhio proprio che segreto è quello? però cazzo me ne frega questo riatta vedeva giocare di tutto tu hai detto che sa giocare io avrei miei dubbi iniziamo a torcerci le carte in mano così preveniamo la... tutta sangue eh vabbè sempre due carte possiamo giocare tutta sangue no no possiamo giocare uno, due e tre si palla ma poi li rimangono diventati ah no però se mettiamo questa provocazione questo è così ci sarà più no l'ha fatto bene no no l'ha giocata vabbè no l'ha giocata inizio non fa niente bene così si a questo punto mettavamo lui anche io ha pescato questa carta che ha trovato in mano? benedizione lo so lo so è stata in mano? è lui 10 li ha morito ok no ha finito le carte cioè ha mosso non pesca questa ha perso quindi vediamo di ammazzare di tutto ammazzo si? si per forza lui evochiamo lui si eh per forza la pantera lui è un diavolo da uno pantera e poi lui o lui? no è il il potine si si no il potine ci diamo una cosa scala la scala la scala la pescata ma la pescata la pescata la pescata avrei passato subito la pescata la pescata oh tagli li coltizioni ah si vado a mano in modo quelli devono legarsi a cuore sta laggando la miseria non è colpa di france non ti è a posto a posto cosa andai in bagno il povero scopo una cosa di stare una città ma ci deve scegliere c'è anche il tizio che ti riscute il mio sta qua questa cosa non può attaccare a posto non 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 ma non 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 Tutti i soldi costruiti Di un account che non è mio Tanto a voi ci credete Ok, non è una mercea facile, ma la mano è buona Io credo Tranne questa E' carino Va bene, metti che gioca la Iena così a cazzo Però lo stavo pensando quello io Vuol dire che siamo sicurizzati Come sempre Hai ragione per trovare un porcello Scusate per queste affermazioni in tanti lunghi Vedete la pasta di messa in mare Ma in aria è forte il porcello col cacciatore Non ho idea Perchè? Perchè non l'ha lasciato A tanto comunque sia in aria Comunque sono mosso e morto Ciao Omega C'è anche Omega Eh, rimarmo Ah, rimarmo Che chi le capita E' andata benissimo Buono Buono a cambio Sì ma lui è andata meglio Vabbè aveva il 3-1 dai Sì Io preferirei il 3-1 perché ci rimane vivo Io ora hai messo a manti Daniel dice così e Daniel dice così Io avevo giocato ora la moneta e il Innavese che vicio Si così ma erano di vita che cazzo di senso ha E' andata bene Si ma c'ha lui ma qui C'è andata bene Meno male che l'ho messo la Yeni Ma potrei inserire No Ma c'è un tecino E' andata bene E' andata bene Si ma c'ha lui ma qui C'è andata bene Meno male che l'ho messo la Yeni Si gli mettono trappola Appena possiamo mettiamo Magari il cuore P booster Poi si mettono la pallina E' andata bene Sì E' e, il cazzo Porca puttana Porca puttana Ma non l'abbiamo messo la giocata Si abbiamo una piadina No, la piadina La piadina la taglieremo Ti piadini Allora poi, non in mia presenza. Vuoi fare monete scudo di Milano con il tizio che ti scudo di Milano? No. Sai cosa? Sai cosa? Che voglio potenziare un tizio e poi voglio dargli sempre scudo di Milano, scudo di Milano e dargli anche questo. Ok, allora... Allora darglielo solo a capo. Perché poi non glielo dà? No, perché... Duca. Vedi che poi lo silenzio... Silenzio per stare qui. Ecco. Vabbè, ora ci sta il potenziamento. Eh, il problema è che poi escono le Iene. Eh, comunque gli dà scudo di Milano. E ammazza una Iene. Già ascono di Milano. Quindi potenzialo. Sì. Ora potenzialo. Sì, no. Qua sale il tizio. Una piadina appata. Mmm, peccato. Sì. No, 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 no. Sì. E dai scuditi. Non, no, no, no. No, 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 no. Vabbè, come ha un diseggio in servizio del casuale. Mi, mi incazzo. Torniamo il fumo. Ma non ho fatto il fumo. Perché il fumo da fastidio? Eh no. Eh, no. Eh, vabbè. Che sta facendo? Mi è pazzo. Mi è pazzo. Mi è pazzo. È pazzo. Perché non ha fatto il contrario? Ah, non aveva niente. vabbè, innanzitutto attacca diretto diretto? Così vediamo il proprio schermo ma possiamo ucciderli? io l'ho proprio più male, mi devo dire è vero, dai giusti, giusti, giusti segui le regole segui le regole no, sai, sta ancora a 29 avergli dato un po' di danni diretti non sarebbe stato male dobbiamo sperare che non casca quel cazzo di uccielo anzi, che non ce l'avevo con il bambino vabbè dai, che altro ha? ahia ma da mo se gli arriva una bestia di dio in mano insomma si schianta contro quello che non conosce tu non conosce sta carta, gli metto una bestia casuale a cazzo in mano da qua si si parte parti inesistente, ecco è arrivato il lupo e puoi pure attaccare quel lupo è strano è perchè non ce la faceva ucciderlo eh comunque attacca diretto si si attacca diretto prima però l'ho ucciso l'inoceranzo molto pronto è vero, l'inoceranzo l'ho ucciso hai ragione senza perdere uccidato no no quello da 4 io l'avevi dato 4-2 ma dai dai va bene così ma che dici meglio che salire i peschi c'ha pure 5 e 4 è morto ecco la pescata ci pensi l'ha avuto a casa? se no non pensa avrebbe riuscivato il primo anche fatto il tizio 3-5 cazzo è tornato pure 1-1 vabbè ci può uscire qua ehm la parola la parola vediamo la parola perchè non è bene lui comunque questa 4 poi lo silenzio se sono curato forse non è convenuto un altro comodo ma avrei dovuto usare il cosè ah c'è quello lui lui l'arcenta non cadrà è arrivata adesso siamo presenti ad una battaglia chi pesca le carte migliori? si allora innanzitutto iniziamo a pescare dalle altre danni a lui e ci schiantiamo la scuola fango ma tu no non conviene scuola fango ma poi devi scuola fango si guarda che possiamo usare qua si è che non è vero cosa che schianti bella hai visto no? ci va qua in giocata lo abbiamo usato penso che non è vero cosa che schianti beh hai visto no? ma ci ammazziamo comunque gratis poi io lo ammazziamo noi si non ci frega no ma c'è c'è due carte questo non c'è che rischiamo quello che risolve se gli spieghi divino ma magari oh dai eh neanche lui è ma non ha fatto male eh e lo utilizziamo o no? si può si può una nuova una pedina scegliamo di non vincere ma perchè? ma pure prima l'ho messa non lo so prima l'ho messa non lo so prima l'ho messa però ho messo io che avrebbe fatto bene quella è una carta nuova tu cazzo ci ha una pedina schiantavo pedina e lui? no sei nido però sei nido si muori ah no vedi ci voleva la pedina ci voleva la pedina con la mene lo ho fatto i calcoli in bene ma madoo abbiamo perso la partita per la pedina dobbiamo sacrificare tutte e due adesso perchè n'ha senso almeno lasciamo la merda A questo punto gioca tutto e passa Gioca tutto e passa Ecco la piadina senza parole Era senza carta in mano il tizio Cioè il potere che ti mette in vantaggio Non stava niente Abbiamo vinto e passa Cazzo Cazzo Poi quella tizia alla morte ci ha dato una carta Quello che ho capito Si però Non abbiamo grandi carte in realtà Abbiamo quello che ci cura No, quello che li batterà Abbiamo l'arpia L'arpia non sarebbe fatto male Anzi sarebbe anche la carta migliore Se non si schianta è tonto l'amico Che cosa vabbè a pescare Ah ma dai Ma vedi che ce l'ha messo in qua Abbiamo perso pererebbe una cazzata che ho fatto bene Questa è perso Ok come non detto Ma che cosa è successo Ca cosa si tiene una carta in mano senza giocare Cosa impossibile C'è una scatistica Cazzo Buca la copia Cazzo Guarda, mi sa che ce la teniamo noi però, la c***a. Vai a giugno lì. Ti rinforzo uccidono gli rossi. Ma lui poteva pescare, ma non l'ha pescato. Ti facciamolo. No, lui si schianterà contro il tizio. Vai di lento, vai di lento. Per favore, che colpa mia se perdiamo. L'account non è mio. Anzi, qui c'è una spada. Forse farà arachino. Bello. Perché? Ma doveva fare il contrario? Ma comunque non arrivava lo stesso. Allora dai. Vabbè, ero più figo. Comunque è morto. Ok, finalmente. Non è che non ha pescato una carta che ci ammazza con lui. Abbiamo messo il prossimo giusto. Non è che non ha pescato un c***o di provocazione come prima. Alex Raza. Alex Raza. Madonna, basta con questo Alex Raza. Ma tu c'è una carta? Basta. Poi da portarci a me a te. No. La giustizia. La giustizia. La giustizia prete. Meglio che stai ziti. Ora stavamo per perdere proprio il pazzo. Un'offerta... ...c'è fatto subito. Abbiamo quasi pure fatto amico. Ma noi siamo andati abbastanza bene! Cazzo che lo stai ziti. Dì che noi ci accoppiamo con quelli V4 vittorie? Veramente, perché aveva un futuro del leggendario. Così è funzionoso? Eh si, Dany e avversari lì. Che c'è? Ah! E' così, ci deve essere un criterio per cui trovo il glielo. Prima che ti trovi a dimagino Io ho paura di perdere Enemy Hunter 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 abbiamo trovato L'abbiamo trovato Hunter Hunter L'abbiamo trovato Hunter Hunter Che si fa? Torniamo questo? Si Metti il giocato con la carta d'acqua Metti il giocato con la carta d'acqua L'abbiamo trovato Quello farebbe con una bestia casa sua Non ci siamo Monete e freccio Monete e freccio dai Ecco Ma chi è? Ma chi è questa qui? Dintro che siamo in vivo Dintro che si è uscita E che è questa Giovanna Si scena ma poi devo fare tagliare su te la pasta Devo mettere Bip qua Bip? Chi è Bip? Bip! Che ti dico? Chi è lo runner? Dai dì Trovate il giocato Freccio Ci ha pensato su e lo fa così Va bene Lo ha attaccato Lo ha attaccato Per forza Sì Brava No ti ringrazia Grazie Anter Hunter Ma è la stessa che brava Giovanna Qual è il segreto da due di qualcosa? Eh sono tutti da due Dintro che hai Si Ora se ti verrà te lo danni a più Quella si attiva solo se ti dirà Subito Piego questa? No ma c'è quella C'è il bragetto Ah è vero fatti attivare il segreto dai si O te lo ammazza Ok Poi farai te lo rimane Magari? No Anche meglio in realtà No Io non sto facendo nulla Io non sto facendo nulla Stai vincendo Io sto vincendo E non sto facendo nulla Io non capisco neanche le carte Vabbè perché non sai quali rumore Capisci Oddio L'hai giocato a caso Serio L'ho messo così in mano Dan ha preso Lui Sì Allora io chiedo Io sono umido Non dico abbiamo vinto e passo Prendiamo Prendiamo le piadine Basta Oh via Giovanna Non mi rompere le palle Oh oh Ma ti dici Giovanna Se stai guardando questo video Non rompere le palle a Luca E' un po' difficile che lo sta accortando Intanto qualcosa è diventato una bella Ok Uccidi di sto corso e metti il segreto che siamo arrivati E poi avvocati i due Senti Dalli scusi di minimare i miei Così Le involiamo attaccate Anzi Non si può essere una bella Ma c'hai il seguito C'è il seguito Prendiamo un nerfart Eh si ma Un nerfart significa che costano tre app sui due Beh Dove lo costare quattro Non ce l'ha Non ce l'ha Si appa e non ci interessa Va di lusso Che cazzo è successo? Roadrunner è venuta male Si Perché non è attivato? Ha usato bengala Ho usato bengala Ho usato bengala Ho usato bengala Che cazzo è bengala? Che dici? Come ha fermato il segreto? Ma non ha fermato nessuno Ah niente Ha attaccato Ha attaccato quella tipo Allora mazziamo? Si Vediamo No No Stratcomatta La scada Dopo giochiamo na ratta All'arpia Puoi giochare all'arpia Voi giochandona all'arpia Iper assured Non abbiamo detto se bucchiamo Di raccomando Non uscide il 2x Abbiamo perso un tizio . Perché è impegnata a rincorrere le B poop Lo chiamiamo quis con gli uomo che ci stiamo Non c'era passata l'appia Luca, c'era passata l'attacco di roba No vabbè Luca, se vuoi seguire la partita Sai, siamo in feria, siamo registranti Qui il Coyote l'abbiamo perso Sedici danni così per... Oddio Mio Dio Ma ho minacciato sto Hunter Non sei degno di avere la licenza Hunter Ma tu devi fargli sala Minimo in suo caso lo vede gli dà un 10 Ma che stai dicendo? 5 Pensa Giovanna Penso a... Finisci No ma stai no, no, perditi Devo capire Il video non sarà salvato quindi... Devo capire in continuazione Io lo voglio caricare sul serio Ma perché lo devi esitare? Eh, ma non è quei di Tau Guardate qui non ti fico nero Guardate il fatto che... Ma è vita tua Sì Da quando la conosci Ma finisci Non so leggere come si chiama l'avversario Andre in green No, lì Sì Non è vero Ma qui le terei tutto anche se perdiamo Che stai facendo? Ma lui è che ci serve? Non ci serve a niente Abbiamo perso Abbiamo perso Caputana No, no Ma proprio sto chiede Ci ha buttuto il paradigma No, no Abbiamo perso Abbiamo perso Questa, questa è persa Ok, aspettiamo, aspettiamo Il terzo turno, uscidiamo Tanto lui comunque deve... Gli davi la carta per pescarli Togliamo il fumo qui Cazzo Come che non pensi? Cosa vuoi? Dovemmo dare la carta per pescarli Eh, noi li andiamo Eh sì, dopo che hai giocato a casa Dai, chiama lui Non ha senso Non ha senso Ormai è attacco No Un grazie a cazzo Perché non so Ma la mo' ne rispondo io Il tizio è stato baffato Che ha perso Ah, ma è no? Vedi che devo evitarmi il cazzo Un cazzo di carta di beva Abbiamo perso per cento carta di beva Siamo nella merda Sì Ce ne abbiamo C'è niente Proviamoci uno Alla fine abbiamo più carta Pichiamo questo No Cosa? Sì Dici che sballi? Certo Mi attaccherà Non serviamo occhio per occhio Questa è una... Inseriva un ubbio E' una carta di beva E' una carta di beva Solo perché in una partita c'è un ubbio Un ubbio Una Con chi è attaccato? Sì Sì Muore Ma dopo si schianta con un pelle e pesca Mi ha sbatto un cazzo, poi la pigliamo Non pesca, gioca una carta No, da due Bello Cosa? Non pesca Sì Ok E' importante che può curare lui e non a lui Non può curare nessuno Quindi lo uccidiamo con un martello credo a quella tizia E' un bel caos che lo spiegherà un martello per una cazzo Dopo pesca, io non so Ah, dopo pesca No, 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 ammazza Ammazza Poi l'aveva ammazzata tutti i costi E' un bel caos Lui Dai, non c'è niente Dai, non c'è niente Non c'è niente Mi sono tristi Curerà il tizio da due o due o due Ma lui Lui ne si è ceduta fortissimo Sì Però già ne si è ingiuta Tu lo giusti questo Non fai Sei un coglione Fortissimo Oh, ma che cazzo Ho giocato una carta assurda Per una volta questa carta ha senso Poi le tessi salute ha senso Gli diamo questa a lui Così abbiamo già perso Due turni Due turni campiamo È vero Abbiamo perso Io direi di giocare lo sputafango E siamo felici Ci giochi salva l'esalvabile Ma lo sputafango ce lo fa fuori subito Però non ci fa sette danni in faccia Non il mio Pieno più coraggio Uccidi quello che è sicuro Ok C'è una carta che c'è del 5 Ovvero quella che ha costato 6 Non c'è la carta che ha fatto la mia No, c'è la carta che costa 6 Che ha il 5 Ce l'ha Prima di perdere peschiamo Ma la è andata in culo Potevamo giocarcela meglio e No, a rendita, a rendita Non ha senso Oh, per quanto andiamo ancora? Non ha senso Su quanto campo? Io campo Poi ti devi fare Farà la carta che fa danni diretti Sicuro Prendi il contenuto di salute Che non ti devi fare Ma è fortissimo Ma esiste la prima Questa qua Ma non gioca nessuno Perché è appunto Io la giù Io la giù Io la giù Ho capito Ho capito Ho capito Ma quindi se ti vuole passare il tuo video Cioè, Robo Talos Sei il Dio E poi gli dico Per la carta Ho capito Comunque Giovanna sta portando sì Sì Io lo dico eh Senti Senti Ero 8 Potere Contro Potere Si batterò ancora lui La giustizia pretende il castigo Allora La giustizia pretende il castigo Queste due le lasciamo? Sì Sì La benedizione Ma siamo contro Paladino Sono a pompare una pedina Non si ci va a fare Oh Iniziamo noi Minaccialo Minaccialo Giochiamo già il corsaro? Lui giocherà una pedina No No La sua mia è Giovanna sta via Ma Sì Di chi? Sappiamo adesso chi è Giovanna Non capire chi è Giovanna Dai dai scudo di vino e schianta Facciamo morire Giovanna No Ma non mica morire Ma Non c'è Ma 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 No 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 Non si Ma Non si Ma Faccio prevedere il video Allora Tu puoi fare il piadino? Porca porca ma Perché lui doveva andare a mettere? Ma vai dire Piadino e tu dire Diamo un tipo di vino a un tipo E Ma lei Sì E dai lì pure quello che pesca Non c'è stata una partita che non abbiamo pescato sta carta Ci ha fatto vincere Ci ha fatto vincere un sacco di volte Fortissime la regola Eh fortissime No Segui le regole Non lo so Voleva giocare Ma perché non si Direi Ma non fai Sì Ci fai troppi Vabbè innanzitutto Schianta Quello Poi pesca E poi pesca Possiamo ancora usare il scudo di vino per chiamare col tizio No no Va bene così No no Teniamocela Ci teniamo Giovanna Speriamo Giovanna ci farà vincere Io non la voglio Giovanna Non la voglio Non posso dirla Perché Quello andrebbe di patto Davvero Ah E ora Vabbè Vabbè Te l'ho detto che avrò voluto Comparare Giovanna Tu non mi ascolti mai Io odio Giovanna E anche E' feno E' feno E' feno Mi dico Mi dico Sperate che siamo sempre contro il pagino Perché guarda La cosa è una cosa Canina non è servita Anche una volta No Solo la prima parte E' una cosa E' vero Ah si Ah si Eh vai E' l'illuso Perché noi avevamo atti Avevamo provocazioni Ora no Siamo nella mano Ci c'è No No che schiavo Ne abbiamo No 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 Attacchiamo Diretto Perchè Diretto Perchè Siamo diretto Siamo un lascia La fine Stiamo lasciando Ma da quando abbiamo più carte di lui Perchè non mi lasciate Non ci fiega Perché siamo diretto Poi giochiamo Segui le regole Alla merda Gioca la pia Beh A sto punto non sarai più segui le regole però Eh no Mettici Però attacchiamo la prima con lui alla fine Mettici la pia Poi spiegare le carte sulla pia Eh no Poi non possono giocare con la cosa Solo ci uccide Giovanna con tutti e tre Eh ci rimane prima la pia Giovanna è più bello Ma mi aveva giocavato Giovanna non la pia Non la pia Non la pia Hai fatto il tuo dovere Ma qui è molto buono Chi c'è anche mezza nuova Perchè Io volevo giocare Io potremmo ucciderlo Perchè dovremmo ucciderlo Quando possiamo mettere una pia Sardeggia Ok Questa è anche una spiglia regola No E poi Lui per forza Tocca i due danni Sì Parasuglia Sì Ciao troione Perché siamo troppo forti Come il primo tentativo di arena Da mettere su YouTube Siamo assi vittori Che non è malissimo Siamo tre cervelli E non abbiamo neanche una leggendaria Ladri Stiamo giocando solo per una epica Andiamoci una pista Per me non abbiamo Capitizzo con tre epiche Spero di aver dieci spade Quello di prima Non è giusto Ma lo lascia la tua spada Lo lasciamo male Tu lo lascia la tua coda Eh? Lo lascia la tua coda Che coda? Ma perchè dovrei lasciarla? Come la stacco la mia coda Cos'è la tua coda? Cosa la spada? Biaco assoluto Biaco assoluto Biaco è nuove No biaco Tutti il resto non è il senso Ciao biaco Il resto è storia Il resto è immutato Tu metti biaco il tuo posto Il resto è il tuo posto Ma metti silenzioso con il caso di telefono Hai ragione Ma metti silenzioso Ma poi metti io l'odio Biaco Ogni volta Ma metti il male al posto Sì Melma Melma L'ho detto io Cos'è che c'è bellissima? Ivan vota a giocare Melma Non so dove mi trovo Per tutto posto Ma perchè ci ha ucciso la dita? Eh sì A giocare Ah con l'arma Stronzo E' morta Giovanna No ma Giovanna non doveva arrivare Dai ok Un porcello A cosa Ormai è difficile Dai scudo di vino Cosa? Dai scudo di vino Eh schiantati Cosa vuoi fare? Dai scudo di vino Schiantati No Io voglio pomparlata per dire a tu Perchè? Perchè? E se c'è la dita? Passare casuale E se non ce l'ha? Ma perchè dovremmo schiare? Possiamo stare tranquilli E se non ce l'ha? No Se non ce l'ha Non vinciamo comunque Se non ce l'abbiamo vinto Pompiamo l'arpi e vinciamo Dopo ci troviamo con lui pompato E lui pompato Al turno dopo Ma non succederà mai così Vabbè Ma perchè non voglio Il via Perchè io voglio rischiare In arena mi piace presto Si ma ci mancano sconfittare Perchè a Allora Ma ti voglio aiuterli a tutti Però comunque Siamo stati bravi Possiamo pompare qualcuno Così non muoce Perchè gli altri personaggi Ci la pagano 4 o 5 Due da niente Mentre lui la paglia a due Cosa fa quel run Ah quando muore Avevo chi Io due moschi uno Si va beh inutile Li vuoi anche mettere la vita L'attacco a uno quel tizio E lasciare Ora vuoi lasciare Vuoi lasciare mettendo A sto coglione L'attacco a uno No Scusate non giochiamo il goal Schiantiamo Ok 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 Va benissimo Lui si schianterà A giocare il run Inutile Ah State diretti Si Poggio che il compare Poi schiantiamo Assistenza Lui schianterà Il run Contro il compare Va bene Può comunque attaccare Con quelli che ascono Non sono nemmeno bestie Perchè ultima pia Eh mica c'hanno carica No Escono due carte così però Eh ma avevo le bocate del suo turno Quindi non c'hanno carica Si ma non ce ne fai niente Cioè da quello che pia C'hanno schifo In realtà Non è male come carte Perché costa due Poi la usano nel druido Per fare la tantica Quella di pompare tutte a due In realtà la usavo Quella del ladro Ah cazzo Lui è una bestia però Merda Addirittura Non vuole uccidere una pedina Eh no Perché non morirebbe lui Dopo Sì Vabbè noi abbiamo una melma Non ci frega niente Perché ha fatto Un errore di calcolo Ma strappompiamo sto tipo E ribasciamo il culo a strisce Non mettiamo pure l'altro yet Eh ma no Beh Se la farà anche beneduzione del re No Mettiamo lei così quello Poi vinciamo ultimamente Vabbè fatto 15-16 Cioè 15-16 Secondo me si avrende Secondo me si Se ha ancora detto Gli entrambi A due servitori No Se no Poi ci avranno Una partita più bella Vabbè la gioca Ma non ci attacchiamo questo Ma non sapranno mai Eh lo so Non sapranno mai Vabbè la gioca Eh no Non voglio capire niente No Prima attaccavi con il cuore Se lo hai sentito avversare Se lo hai sentito avversare Se è scarso Staccavi due volte con l'artia e più con il cuore E quindi il saldo La partita più bella Tranquillissima è stata Sì Ma tutti e due Sì Non ce l'avevo quella carta però Sì Ma non c'è Perché non Abbiamo dovuto aprire No Non toccava mai più Tu le rompi le cartane Ok non tocco più la tua cartane Eh no Outer control Ma Dacia No No Non ce l'avevo Ma tu è pazzo sto tipo Magari sbagliare ai giocati Senti io siccome L'arpia per l'evolzione della terra No Mi se va tolta Baccio è pazzo Baccio Anche Buccio è pazzo Eh Non è male il scudo divino lui Sì appunto tu Lui ha il tiziotto degli scudi divini No Mettiamo lui Lei Giovanna 2 Eh C'è Guardi Giovanna Non è la piadina È scarsa C'è la spagna C'è che scompare Fa C'è attacca Non mettiamo due scudi divini No No Sì così poi eravamo proprio il filo di puttana E ne avevamo persi di più Oddio scudo divini ma lì c'è lo scudo divini Si può fare lo sai E che fa? Ma non è simulativo Sì è comunicativo Sì Bello Lo sapevo No Non è solo il corso Dini bella giocata Non so cosa sia con l'essere Il malocchiazzato Il malocchiazzato Ma vedi che fare spreghi e cavalcalupi contro quel corso Sì 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 Anche no No Non lo fai 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 Siamo contro il paladino Se lo pombo poi come lo uccidiamo Come inizi a vedere? Cos'è lo devi dire? Non ti preoccupare Se li da 4-4 Non ce la facciamo Non lo fai Non lo fai Mo dovevi essere cauti Mo non l'ultimo Arriviste Prima Prima sono incollito io Mo sei incollito tu Ci hai Ci hai scu Se ne esce e fa No fai quella cosa figa Non va arrivare Un guaritore per la guarì Come lo uccidiamo il guaritore? Con Pandora Cosa cazzo hai fatto? L'abbiamo perso Io me ne vado Il video finisce qui Addio Chi vuoi guardare questo video è morita Eh? Posso che... Mi vada a uscire dal cane e mi chiede Vi vada a uscire dal cane e mi chiede Vi vado a uscire dal cane e mi chiede Vi vado a uscire dal cane e mi chiede Mi riconforto sempre Addio nooo sbettate alla battaglia sbettate dai dai non ho compito così lascia la spada lascia la spada lascia la spada è un gioco si sono sette giochiamo vuoi dire qualcosa agli spettatori vuoi salutare giovanna io ho una famiglia no dire le tue ultime parole mi chiamo luca dimmi le tue ultime parole sono queste le tue ultime parole non lo so 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 mi riferimento a mamma che muore a mamma me la dovessi mangiare la testa non taglia dai ce la possiamo fare ancora io gli darei il scudo di vino a sto punto gli darei tutti i scudo di vino dai tutti i scudo di vino gli do tre scudi di vino accumulativi si si ma ora gli dai lo stesso tu che pensi davvero di vincere il mio che non posso dare a lui non glielo fa dare se luca vince se luca vince se luca vince si l'avamo visto si non ha senso ti giuro le confondo sempre con le gambe vabbè raga ma leggi i disegni sono simili Andrea non è più la vergogna luca è la vergogna e diventa anche il migliore amico di PA quindi oh ma lo sai che va a partire anche pure una volta la stessa cosa ma a partire cioè lo ne confondo sempre con le due si io vado a fare la dj luca bia anzi dj bia no abbiamo comunque un sacco di soldi possiamo comprare due bustine e più questa che sbusta guarda sbustiamo ma sbustiamo tre bustine dai come dobbiamo comprare due neanche dovresti farlo al massimo 50 quanto e poi si scrive se è nuovo no? allora la prima una testa? io non le apri io mi vergogna dai un po' ok no 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 oh due mostro che c'è? i più segnitori non possono essere portati ah quella catella non sa nessuno dai hai toccato il daniel questo c'è un bel leggendario ma sei zitto luca ma perchè luca ma ma tu c'è veramente una cosa a sbustare io lo so che si è veramente una cosa a sbustare io lo so che si è veramente una cosa a sbustare tutti dai questa è una cosa a sbustare tutti dai questa è la sbustina di dj che schifate raga ma dopo un'arena del genere è così bella fino alla fine fino alla fine vabbè raga vi salutiamo e prima che mi taglia la testa daniel io sono tjson tu non sei nessuno tu sei tj bianco vai salutatela tu sei bianco io sono f9 bianco e tu sei? io sono f9 bianco ma vi avevo detto ma non sapete che non vedrà sto video bianco? ma perchè se ne frega? vabbè è il mio salvatore ha detto tante rikes non lo ha detto a uno che non sa neanche giocare non distingue le carte ciao come che stava troppo forte